da quanto tempo è che aspetta l'autobus che ne parliamo prima tre quarti d'ora via milano e adesso una mezz'ora lì a San Silvestro non ha diecina di minuti qua e dove deve andare via milano e quanto quanto tempo pensa che ancora ci vorrà consigliate gli mezzi che ma per adesso grazie a dio non mi interessa quindi però per fare un nuovo che passa va per fare un piccolo tragitto comunque ci vuole tanto oggi non c'è problema e l'esimo sciopero a Roma c'è qualcosa che lei basta questo sciopero decidessero una volta per sempre di mignassero basta così signora lei era qui ad aspettare l'autobus ha deciso di andare via si la faccio a piedi io io abito a Alessandrina quindi le posso chiedere quanto dovrà aspettare l'autobus non lo so io di solito quando c'è lo sciopero arrivo anche alle quattro il pomeriggio dopo il lavoro che ho finito alle mezzogiorno adesso lei ha visto l'orario fra quanto passa il suo autobus tipo 40 minuti 30 minuti se passano però sempre se passa sono stata tante altre volte qui e non sono passate il messimo sciopero è stanca si molto adesso ce n'è un altro lotto e lotto non garantiscono neanche le fasce orarie quindi non lo so come si farà io purtroppo non posso mancare dal lavoro grazie a tutti